Tre giorni di eventi, un tricapodanno che riprende dopo il periodo di pandemia, due giorni al Porto Antico, 29 e 30, dedicati alle famiglie e ai teenagers con Cristina D'Avena e tantissimi youtuber TikTokers. Ma non solo, ci aspetta il 31 capodanno targato Mediaset diretto su Canale 5 condotto dalla Federica Panicucci in Piazza dei Ferrari con tantissimi artisti nazionali ed internazionali. Abbiamo pensato anche alla cultura, quindi non solo spettacoli, danza e musica ma anche cultura in Via Garibaldi. Via Garibaldi si accende, Via Garibaldi apre i suoi mesei, Via Garibaldi apre il Palazzo dei Rolli e l'altro di Tursi dove ci aspetterà tantissima musica e un brindisi finale. La musica è unione e non divisione, cioè non crea steccati, quindi crea qualcosa che si fa tutti insieme per un obiettivo che è quello di viversi emozioni forti e condividerle con altri, caso mai che non si conoscono neanche. Il protagonista intanto è Genova, perché ricordiamo tutti Genova come la terra di coloro che scappano per il capodanno a Bologna, Milano, Torino eccetera, Roma. Oggi è cambiato molto il vento, il genovese rimane e viene anche chi abita da fuori Genova, non solo in Italia ma anche dall'estero. Questo grazie a un cambio di passo nel quale è protagonista anche Porto Antico. Il tricapodanno si posiziona per noi in una linea che ormai abbiamo tracciato, è stato spettacolo, abbiamo fatto anche un bellissimo concerto per quanto riguardava il nostro tantesimo compleanno. C'è una nuova partnership con, rinnovata partnership con il Carlo Felice. Anche questa sera Carlo Felice sarà presente in magazzini di cotone con uno spettacolo di danza di grande attrazione e di grande interesse. Il sovrintendente me ne ha parlato molto bene, quindi invito tutti i cittadini di Genova a essere presenti. Questa è la bellezza di Porto Antico, cioè un'area di grande interesse per tutti che riesce ad essere anche attrattiva sul mondo dell'intrattenimento canoro. Sarà ricco di sole, allegria e fantasia.